Benvenuti ad una nuova puntata di Varese in Rose, diamo subito il benvenuto alla nostra ospite di oggi, Laura Turvani, ben ritrovata. Grazie, grazie dell'invito. Psicoterapeuta e anche scrittrice, autrice non a caso di un libro che appunto presentiamo oggi, Nuovi Principi e Principesse, un titolo non casuale perché proprio vuole analizzare il cambiamento generazione dopo generazione di bambini e ragazzi che in qualche modo diciamo non si riconoscono più in quei principi, in quelle principesse che hanno invece un po' caratterizzato la nostra infanzia e anche la nostra crescita, vero? È vero, è vero, la Walt Disney ha dovuto necessariamente evolvere e produrre modelli di identificazione, personaggi molto diversi da quelli che vengono definite della tradizione, cioè le classicissime principesse con cui siamo nate noi, cresciute, che abbiamo visto, guardato mille e mille volte come Cenerento, la Biancaneve, la Bella Addormentata, sono state nel tempo superate e anche oggi nonostante comunque abbiano il successo ancora nelle, così, nei pomeriggi, i lunghi pomeriggi che passiamo con i bambini, sono sottoposte a nuove osservazioni proprio a partire dalle bambine, no? Perché adesso vengono guardate con uno sguardo diverso, insomma la generazione di oggi è molto meno inclina a pensarsi, soprattutto quella femminile, come in attesa passiva, no? Di qualcuno che venga a salvarci. Sì, certo. La fascia di età in cui i bambini, anzi, tendono anche a riguardarli compulsivamente e ci siamo rese conto che alcune cose proprio non le avevamo notate, no? Adesso i bambini possono vederli, tra l'altro, non tanto come noi nella trepida attesa dell'uscita cinematografica, ma un po' così saltellando da periodo in periodo ed effettivamente se noi guardiamo Cenerentola e Frozen, piuttosto che Vaiana, Ribelle o insomma La Bella e la Bestia, vediamo proprio che ci sono modelli di identificazione sia nel femminile che nel maschile e nella costituzione della coppia molto diversi. Certo. E quindi questo ci ha indotto proprio un po' a ragionare su che modello di identificazione i cartoni animati, in particolare quelli della Walt Disney, che hanno chiaramente un successo universalmente riconosciuto nella crescita e nella costruzione dell'identità, che tutti noi dobbiamo compiere spesso proprio nella prima fase della vita, insomma, da piccoli in adolescenza, insomma, qualcosa ancora nei giovani adulti, ma poi si spera che si stabilizzi un po'. Certo. Non a caso parlavamo appunto dei cartoni animati della Disney, proprio la stessa Walt Disney nel momento in cui oggi ripropone questi cartoni, questi grandi classici, tende a precisare appunto che siano stati realizzati in un momento molto lontano e molto diverso, perché appunto mi raccontava proprio poco prima di entrare in studio che vi è una schermata di solito che anticipa la partenza di questi cartoni e si dice appunto questo prodotto viene proposto come è stato concepito molto tempo fa e molto probabilmente contiene degli stereotipi culturali che sono stati ormai superati. Quindi, insomma, la stessa Walt Disney tende proprio a precisare questo aspetto. Eh sì, assolutamente sì. Devo dire che forse non è un monito così necessario, perché i bambini veramente oggi guardano questi prodotti con i loro strumenti e con quello che la cultura e la crescita li ha già prodotto nella mente, no? Dicevo appunto raccontando un aneddoto che trovo sempre divertente e che per esempio riguardando Cenerentola, a me ha colpito moltissimo Cenerentola, la cito sempre perché ha due questioni che mi sono saltate all'occhio mentre la guardavo. Una, questo commento di mia figlia appunto che piccolina, insomma, 4-5 anni, si chiedeva in credula come mai questo principe non avesse un nome, no? Nel senso che effettivamente questi cartoni animati della prima fase, che vanno, diciamo, a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50 della Walt Disney, i personaggi maschili, bastava veramente che fossero maschi e principi. E proprio la strutturazione del carattere del personaggio era veramente molto piatta, bastava pochissimo per far sì che le principesse o le femmine del cartone animato si mettessero in attesa e che si mettessero in attesa di quello che era il passaggio sostanzialmente dalla famiglia al matrimonio, dall'essere figlia all'essere moglie, no? Quindi come la coppia fosse l'obiettivo centrale, l'obiettivo centrale della costruzione dell'identità femminile e che questo avvenisse senza, come dire, con quello che per molti anni ci hanno fatto passare come il colpo di fulmine, che però in realtà vuol dire non conoscere niente di questa persona, no? Quindi Cenerentola, quando infila la scarpetta, a nessuno gli chiede se era d'accordo, se fosse stata d'accordo effettivamente a sposare il principe oppure quella che oggi forse considereremmo una molestia, cioè il bacio all'addormentata che appunto trasforma la festa del compleanno, dei 16 anni nella festa del matrimonio, no? Anche questo è un dato interessante, no? L'adolescenza non c'è nella prima fase dei cartoni animati, si passa proprio dall'essere bambina figlia a essere moglie, no? E poi c'è un'altra cosa interessante di Cenerentola che forse ancora sbigottisce di più, c'è un punto che appunto evidentemente noi da bambine non abbiamo tanto sentito, in cui il re, lasciandosi andare a una cosa che adesso sarebbe assolutamente poco corretta politicamente, si chiede, guardando tutto l'avvicendarsi di tutte le principesse che arrivano al cospetto del principe, sperando di essere scelte, tutto un po' arrabbiato, dice insomma ce ne sarà una disponibile a fare la fattrice, che è veramente un termine oggi, no? Pochissimo adeguato, e poi si correggia anche lui, nonostante fossero gli anni 50, dice ma è disponibile almeno a fare la moglie, no? Perché effettivamente sia nella fase, diciamo, della transizione, e siamo negli anni 80-90, sia in quella del nuovo millennio, quindi nell'altra fase delle principesse, sicuramente i personaggi e le vicende che vengono narrate sono molto più spesse, sono più articolate, c'è come dire un bisogno, prima di arrivare anche alla coppia, all'amore, al matrimonio, di una conoscenza, di un'avventura fatta insieme, di una reciproca conoscenza, che sicuramente è evidentissimo negli ultimi esempi, no? Se pensiamo a Frozen, a Ribelle, che sono molto poco anche interessate alla coppia, no? Sono più interessate a portare avanti dei progetti individuali, e anche il cartone animato si trasforma in un romanzo di formazione, no? Dove i personaggi rincorrono prima di tutto la costruzione dell'identità, no? E la possibilità di diventare qualcuno prima ancora, no? Di entrare nella dimensione di coppia. Certo, possiamo dire nuovi principi, nuove principesse, perché da un lato troviamo degli uomini che sono loro per primi sempre meno attenti alla principessa di turno, e magari sempre più attenti invece a se stessi, anche un po' all'aspetto fisico, alla perfezione, al migliorarsi, insomma. E dall'altro lato le bambine, le ragazzine non vogliono più fare le principesse, si sentono molto autonome, determinate, insomma, non hanno certo bisogno in quest'epoca di essere salvati, possiamo dire così. Ma diciamo che la predominanza culturale oggi va nella direzione anche di una modalità educativa che veramente instilla nei bambini, devo dire in particolare nelle bambine, dei valori molto orientati all'autonomia, no? Nel senso che oggi nessuna mamma, nessun papà, nessuna famiglia in qualche modo vorrebbe che i propri figli andassero nella direzione di una dipendenza, no? E quindi la ricerca dell'autonomia, del benessere, della realizzazione personale, dell'essere prima di tutti soddisfatti con se stessi, oggi è proprio come un valore, no? Che viene molto, molto considerato molto positivamente nel galateo educativo, no? Nella famiglia affettiva di oggi, no? Per cui evidentemente questo ha comportato molte modifiche. Da una parte abbiamo delle femmine che con un grande carico, no? Di onnipotenza a volte, no? Noi anche adulti lo sappiamo bene, no? Siamo stati un po'... Richiediamo a noi stessi, prima ancora che questo venga richiesto dall'esterno, di fare tutto, farlo al meglio, essere bravi in un perfezionismo che a volte è un po' tirannico. E i maschi, avendo perso questo prediominio, diciamo, naturale, dato alla nascita, cioè il famoso augure figli maschi, che bastava in qualche modo a essere messo già in una situazione di privilegio, o il pater familias che metteva, come dire, i papà, in quanto maschi e papà, in una valorizzazione universale, alla rincorsa di nuovi modi di interpretazione anche del codice maschile, che non sempre è semplice, no? Anzi, oggi è molto complicato anche stare al pari di queste ragazzine, di queste donne, di queste femmine, di queste bambine, che fanno anche molta fatica ad accettare, no? Di essere aiutate o anche magari a volte avvicinate con dei galatei che si stanno anche un po' perdendo e questo rischia di farci andare verso la costituzione di altrettanti stereotipi, altrettanto tirannici, su cui forse è meglio fare delle riflessioni. Certo. Perché è effettivamente vero che adesso abbiamo, come dire, la possibilità di integrare dei modelli, no? Di femminile, maschile, internamente in ognuno di noi, senza dover far sì che questo vada a far appugni, no? Insomma, quindi la ricerca crea sicuramente dei margini più ampi di libertà, la famosa fluidità di cui tutti oggi parliamo in tutti gli ambiti della nostra nuova società postmoderna, che, come dire, crea molte più possibilità, a volte più fragilità e più disorientamenti, perché insomma poi la libertà bisogna sapersela un po' anche gestire, no? E chiede degli sforzi di comprensione e di interpretazione che non sono semplici. Certo, diciamo diventa fuori moda il dire di aver bisogno di un consiglio, di un supporto, di un appoggio, quindi è vero non cerchiamo più oggi il principe, però molto probabilmente a volte si ha proprio bisogno di essere ascoltati, supportati. Forse in questi modelli, se vengono troppo, diciamo, gonfiati e presi alla lettera, rischiano di far perdere questo, anzi di farci vergognare nel momento in cui sentiamo di avere questa esigenza. Sì, questo è un rischio e quindi insomma adesso noi andiamo nella direzione di coppie paritetiche, complementari, che in qualche modo appunto sono, c'è proprio bisogno che siano capaci di collaborare in una quotidianità che è sempre più complicata, no? Dove appunto il sentirsi vicini e complici e collaboratori nell'impresa della quotidianità è la vera ricetta, no? Non semplice ma fondamentale. Certo. Bene, io la ringrazio molto per questa chiacchierata. Sicuramente avremo modo di approfondire ancora queste tematiche, anche perché so che sono numerosi libri che pubblicate, legati appunto a tutti questi temi dell'adolescenza, della crescita, che un po' vanno a fotografare questa società in continuo cambiamento. Intanto la ringrazio molto, ricordiamo ancora il titolo del libro, dunque soprattutto per tutti gli educatori, genitori che possano essere interessati, nuovi principi e principesse. Grazie. Grazie. Grazie mille, ovviamente grazie anche a voi da casa e alla prossima puntata di Varese in Rosa. Arrivederci. Grazie mille, ovviamente grazie a voi da casa e alla prossima puntata di Varese in Rosa.